Sale la paura anche in Puglia per i contagi dovuti alla variante indiana, ormai nota come variante delta. L'Istituto Zoprofilassi di Puglia e Basilicata ha già individuato 24 persone positive a questa mutazione del virus del Covid. L'Istituto starebbe verificando altre analisi e dunque i positivi potrebbero aumentare. La maggior parte dei positivi sono stati rintracciati nella città di Brindisi, due nel Barese e qualche altro caso in provincia di Lecce. Il numero, come detto, potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Si attende la verifica su altri otto casi sospetti provenienti da Brindisi. Un particolare monitoraggio è nato anche in altri cinque comuni della provincia di Lecce, dove era stata accertata la presenza della variante. Si tratta di quella variante che ha provocato la crescita dei contagi anche in Gran Bretagna, con il premier Boris Johnson costretto a rimandare di almeno un mese la rimozione delle restrizioni. Una variante, quella indiana, che è iniziata a circolare nella nostra regione e che potrebbe sostituire quella inglese, oggi dominante. Una situazione che preoccupa, come ha spiegato lo stesso presidente della regione Puglia Michele Emiliano, poiché questa variante potrebbe essere meno sensibile ai vaccini, con il rischio di non avere a ottobre l'effetto favorevole della immunità di greggia.